Ciao Giovanna, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito oggi a parlare di questo tuo libro intitolato Street Art, vandali o artisti? Edito dai quaderni del Bardo di Stefano Donno. Allora, tu tra l'altro sei un artista, anche molto bravo, ti interessi da sempre di arte, ma anche di poesia, voglio ricordare anche questo. Partiamo un po' dalla definizione di Street Art, tu come la definiresti? Beh, direi che è innanzitutto il tentativo riuscito di portare l'arte in mezzo alla strada, in mezzo alla gente, cioè è un po' l'operazione contraria a quello che fece Duchamp, che portava gli oggetti comuni in museo e li faceva diventare arte, gli Street Artists fanno l'operazione contraria, portano l'arte in mezzo alla strada, sui muri, in mezzo alla gente. Beh, mi piace molto questa definizione, tra l'altro veramente rende il senso di quello che poi è il tuo libro, perché in questo tuo libro hai voluto un po' illustrare anche un po' l'evoluzione che ha avuto la Street Art, rispondendo appunto a questo interrogativo, vandali o artisti? Allora, per te, chi fa Street Art? È un vandalo o un artista? Beh, è troppo facile rispondere a questa domanda. È ovvio che per me sono degli artisti, almeno l'evoluzione che c'è stata negli ultimi vent'anni della Street Art lo testimonia, anche perché oggi in tutte le città ci sono interi quartieri dedicati all'arte e ci sono state mostre importanti di Street Art, da Bansky a TV Boy, anche nei musei, quindi direi che sicuramente la risposta è che sono degli artisti. Però non vi è dubbio che ci sono anche magari degli stupidi ragazzini vandali che si divertono a fare solo dei tag con i loro nomi o uno schizzo qualunque sui muri magari di chiese bellissime che deturpano solo il paesaggio. Però diciamo che i veri bravi artisti sono degli artisti. Ne ha testimonianza? Io ho voluto dare nel libro alcuni autori, oltre Bansky ho parlato di Yorit, di TV Boy, di Alice Pasquini, di Luis Gomez de Teran, proprio perché rappresentano degli aspetti diversi di interpretare la Street Art. Laddove Yorit fa più un'impronta politica, TV Boy insiste più sul sociale, sull'ironia, Alice Pasquini invece è una lirica per eccellenza dove fa dei bellissimi volti di bambini, di altalene e invece Luis Gomez de Teran che porta la bellezza nei luoghi più degradati come la fabbrica di Ragusa abbandonata dove Sun Silos ha dipinto uno splendido Cristo deposto veramente caravaggesco che ho voluto mettere nella cover del mio libro. Sì, ma siccome noi parliamo anche di sud in questo spazio, qui al sud, tu ora sei a Milano, quindi mi viene spontaneo chiederti, c'è un modo diverso di intendere la Street Art o comunque sud, nord non c'è differenza? No, non c'è grande differenza, ormai la contaminazione che è avvenuta tra gli Street Artists è totale per cui ci sono varie tendenze, ci sono quelli che fanno cose più astratte, quelli che fanno cose figurative, quelli che insistono molto sul colore, sul contrasto dei colori, veramente questo anche a livello internazionale, non dico solo tra nord e sud in Italia, ma anche gli Street Artists di Londra o di Barcellona si assomigliano molto insomma. Ma che cos'è Donato che nel corso del tempo ha permesso a questi artisti di essere riconosciuti tali? Ma la loro grande forza contemporanea di contrapposizione al potere, cioè è sicuramente un movimento di protesta spesso, non solo estetico, ecco questo è quello che ha dato la forza alla Street Art. E poi ecco appunto la popolarità dovuta al fatto che gente che abitualmente non va ai musei, non va nelle gallerie d'arte, si ritrova magari nel proprio quartiere, una bellissima opera da ammirare e da lì può nascere l'interesse a frequentare l'arte insomma, ecco. Ma fra tutte queste opere, perché io credo che ci sia stato anche una sorta di studio di ricerca per poi elaborare questo testo, fra tutte le opere che tu hai anche analizzato, qual è l'opera che più ti ha colpito? Sì, proprio quella che ti citavo prima, quella di Luis Gomez de Teran, che ha fatto a Ragusa in questa fabbrica abbandonata, che c'è questo silos immenso, arroginito, su cui è disegnato un Cristo deposto caravaggesco veramente splendido, che è proprio la testimonianza, ci ha voluto dire l'artista io porto la bellezza nei posti più degradati e abbandonati, ecco questo è il più grande messaggio della street art, che tra l'altro ricordiamo è nata negli anni 60-70 a New York con Basquiat e quindi voglio dire questa è la cosa più forte, tanto è vero che il mio primo interesse per la street art è stato proprio di tipo poetico, ho avuto un approccio poetico in quanto avevo dedicato una poesia a Basquiat che se abbiamo ancora qualche minuto vorrei leggerti. Se è brevissima sì, se è brevissima sì. Brevissima no, ma insomma sì, ci proviamo, dai. Allora, I taccuini di Basquiat. Quando i poeti cancellano gli ultimi silenzi della notte, le mani di un ragazzo scarabocchiano versi sui muri delle città. Le parole diventano stelle del desiderio, corriandoli di morte variopinta, intermittenze di luce che inghiottano la notte con un respiro. Altrove il popolo dei vinti cammina silenzioso, perso il metro e solo gli uomini coltivano nidi d'angoscia, con le facce schiacciate sui vetri, mentre negli occhi scorrono i divieti di una vita, vietato attraversare i binari, vietato parlare al condicente, vietato sognare altri mondi, altri amori. Vietato vietare, scrivono invece le rondini metropolitane e disegnano sui muri i loro sogni colorati. Ebbè, è bella questa poesia, davvero complimenti, tra l'altro racchiude davvero il senso, vietato vietare, cioè dateci la possibilità di esprimerci con l'arte. E allora, caro Donato Di Poce, io davvero ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ci hai davvero fatto conoscere i dettagli, la bellezza di questa forma d'arte, che tra l'altro si esprime anche tramite i murales, i graffiti, c'è davvero un lavoro anche importante. Allora, prima di salutarci, volevo farti un'ultima domanda. Io credo che ci sia veramente tanta fatica, poi, nel realizzare un murales. È più difficile dipingere su tela oppure farlo per strada? Ma, penso sia il grado di difficoltà identico, perché gli street artist spesso fanno prima il progetto, oltre che nella loro testa fanno il disegno, poi dalla sinopia sul muro intervengono con il colore. Io ti vorrei lasciare con un'ultima riflessione, invece. Dimmi tutto. L'influenza che ha avuto il nostro rinascimento nella street art contemporanea. C'è un quadro, c'è un lavoro che ha fatto TV Boy, proprio qui a Milano, che si intitolava God is a woman, in cui ha disegnato Adamo, che tocca la mano di Dio, che Dio è una donna. Sì. E quindi anche qui, come vedi, c'è questa carica eversiva e di contrapposizione ideologica, sociale e religiosa che viene forte anche con grande ironia. Ebbè, diciamo che c'è tanto da dire poi su questo mondo che sembra semplice, ma in realtà è anche abbastanza complesso. Allora, caro Donato Di Poci, io davvero ti ringrazio per questa bella chiacchierata, complimenti per questo volume, street art, vandali o artisti. Davvero grazie e speriamo di risentirci in una prossima occasione a questo punto. Grazie a te.